Siamo qui con il terzino del Piacenza, Davide Zappella. Davide, sabato sera, prima bella vittoria per il Piacenza. Che gioia avete provato in quel modo, poi vincere così sarà stato bellissimo. Sì, è stato molto bello dopo una partita sofferta. È stato bello vincere al novantesimo, soprattutto durante i nostri tifosi. È stato bello, sì. Adesso arriva una partita molto complicata sulla carta con la Triestina. Come ve l'aspettate? Ci aspettiamo una squadra forte, in uno stadio importante, con una squadra importante. E l'affronteremo come tutte le altre partite, cercando di dare il massimo e di portare a casa i tre punti. Come ti trovi in questo Piacenza? C'è ancora tanto da lavorare? Sì, sicuramente sì, c'è ancora tanto da lavorare, ma mi trovo bene sia come gioco che come gruppo, con il mister, con tutti. Quindi penso sia una cosa positiva questa. Quindi andiamo avanti di questo passo. E anche l'ambiente dei tifosi come ti sembra? No, no, bene. Visto uno stadio comunque caldo, poi è una partita importante. Quindi è andata bene, dai. Grazie. 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 Grazie.